E' stato un ritrovamento che ha lasciato dubbi e stupore, in primis a Luigi Curzi, docente di matematica e scienza alla scuola media di Monte Felcino, che due giorni fa, per caso, ha visto questa statua lungo il letto del fiume Metauro, tra via dei laghi e la zona di Casina a Calcinelli. Il professore, laureato in geologia, frequenta spesso quel luogo perché va anche alla ricerca di pesci fossili contenuti nelle rocce e a Pasqua la scoperta l'ha fatta, ma un po' diversa. Durante una delle mie passeggiate al fiume Metauro, io sono anche un vecchio pescatore del Metauro e quindi ogni tanto così vado in giro giù per il fiume a vedere i posti, eccetera, eccetera. E allora, la mattina, sono andato lì di sotto la chiusa di Calcinelli, circa un chilometro a valle, e ho trovato sul greto del fiume questa statua. E in che condizioni era? Era sdraiata sul greto del fiume, sopra c'era un po' di ghiaia, l'ho messa in piedi e gli ho fatto la foto, purtroppo però ho notato subito che mancavano ai due soggetti, sia alla Madonna che al bambino, tutti e due gli mancava la testa. E poi che cosa ha fatto? A chi ha contattato? No, niente di che, ho chiesto ad alcuni amici, ad alcuni colleghi di Calcinelli se questa statuetta potesse derivare da qualche edicola votiva che c'era lì in riva al fiume, che qualche piena potesse aver portato via. Ma mi hanno detto tutti che edicole di questo tipo non c'erano in quella zona e quindi non sapendo che cosa fare ho fatto la denuncia ai beni culturali e ai carabinieri per vedere se risulta dal loro database delle opere rubate. Però è una statuetta degli anni 70. Ecco, degli anni 70 perché avete ritrovato un nome su questa statua? Abbiamo ritrovato sotto la statua, c'è il nome della ditta che l'ha fabbricata, tra l'altro la ditta esiste ancora e ce l'hanno ancora in catalogo questa statuetta. Luigi si è confrontato anche con la collega Irene Cecchi, esperta di beni culturali, ma al momento non si hanno ulteriori informazioni. Comunque pare che non ci siano dei segni di trascinamento anche lungo il fiume. No, infatti la statua è molto ben conservata, era un po' sporca di ghiaia di fango da una parte, però pare che non sia stata trascinata, cioè che non abbia subito il trascinamento tipico e quindi l'arrotondamento tipico. È una statua fatta di marmo ricostituito, cioè polvere di marmo con resino, con cemento, quindi abbastanza dura, però il trascinamento lungo il greto del fiume da una piena qualche segno doveva averlo lasciato. Quindi si pensa, si ipotizza un trafugamento? Non lo so, non ne ho idea. Io penso che qualcuno l'abbia rubata e poi deturpata, non so per quale motivo. Comunque chiunque potesse avere delle informazioni può contattare direttamente la Proloco? Sì, può contattare direttamente la Proloco. Io se qualcuno ha notizie, se qualcuno è il proprietario, se qualcuno rivendica la proprietà, la statua ce l'ho io, è a disposizione per la restituzione, non c'è problema.